C'è chi i giovani li utilizza per rifarsi il look politico e chi invece i giovani li rende protagonisti. Gianluca Callipo abbandona il fioretto e infila la prima sciabbolata di questa campagna elettorale delle primarie per la scelta del candidato del centro-sinistra alla presidenza della regione. L'obiettivo della pepata dichiarazione rilasciata a margine dell'ennesima iniziativa di questa politicamente calda estate calabrese è chiaramente Mario Oliverio. Il presidente della provincia di Cosenza ha infatti avviato la sua corsa verso le primarie del 21 settembre incontrando a gizzeria 30 giovani del progetto Erasmus. Confronto vivacissimo con veloce botta e risposta come il duello a distanza con il sindaco di Pizzo. Un duello destinato ad infiammarsi ulteriormente e ad infiammarlo gettando benzina sul fuoco e per il momento il più giovane dei contendenti. Gelluca Callipo che va giù duro. 32 anni fa quando sono nato c'erano gli stessi che vedo oggi nella prima fila nella politica calabrese ed erano già allora nelle istituzioni. Loro sono i dinosauri di un'altra politica, noi siamo il futuro. Il renzismo dunque avanza e seguendo la sua scia Callipo vorrebbe un radicale cambiamento per la Calabria. Per ora Mario Oliverio in casse non risponde alla stoccata del suo giovane rivale. Nel weekend appena trascorso ha preferito prendere carta e penna per scrivere due lettere da indirizzare ai parlamentari calabresi e al premier Matteo Renzi per affrontare la vicenda InfoContact. La società operante nel settore delle telecomunicazioni non si può mettere sull'astrico. Ha ammonito Oliverio centinaia di lavoratori. Servono a rimarcato decisioni rapide e concrete. Grazie a tutti.